Oggi, fratelli nel Signore, volevo parlarvi appunto di questo argomento che è sempre di attualità. Purtroppo il mondo sta pressando sempre di più verso la Chiesa, affinché il peccato, cioè il maligno spinge il mondo affinché il peccato abbondi sempre di più ed entri e contamini anche la Chiesa. Uno di questi peccati riguarda il peccato degli omosessuali, il peccato chiamato nella Bibbia di sodomia, cioè quelle relazioni carnali che una persona ha con un'altra persona dello stesso suo sesso. Quindi possono essere uomini con uomini e donne con donne. La questione qual è? Che sarebbe normale, sarebbe una cosa normale che il mondo avanzasse la loro pressione verso la Chiesa per contaminarla con il loro peccato. E sarebbe normale questo. E sarebbe normale la reazione di tutta la Chiesa in risposta a queste pressioni di respingere questi peccati e dimostrare biblicamente che tali cose sono peccate, quindi qui non passi qui. Questa è la Chiesa di Cristo che si attiene alla parola di Dio e quindi certe cose non devono entrare, non possono passare dentro la Chiesa. Così sarebbe. Quindi ci sarebbero due fronti. Questa sarebbe la situazione normale. Invece che cosa stiamo assistendo oggi? Stiamo assistendo al fatto che la Chiesa, io parlo della Chiesa evangelica, ma anche la Chiesa cattolica ormai comincia a cedere, comincia a cedere dei pezzi, comincia a lasciare, a lasciar passare a determinate concessioni, al peccato agli omosessuali. Ma non è la Chiesa cattolica che ci interessa. Io mi voglio concentrare sulla Chiesa evangelica, perché se uno si gira intorno, guarda, si guarda in giro, e vede che purtroppo è quel pastore che giustifica gli omosessuali facendo un determinato discorso. E una federazione delle Chiese evangeliche in Italia dice proprio che in determinati casi quel peccato, la sodomia, non è peccato. E altri che dicono che comunque basta che si amino, non è peccato. Questo nell'ambiente evangelico. Quindi cosa succede? Che al fronte del mondo, che è il cui, diciamo, burattinaio, chi muove queste pressioni verso la Chiesa, chi muove queste pressioni verso la Chiesa, che è Satana, il mondo, giustamente, dal suo punto di vista, spinge verso la Chiesa. Ma dall'altra non stiamo avendo una contrapposizione contro il peccato da parte della Chiesa. E allora ci dobbiamo impegnare noi anche in questo. Dobbiamo noi far levare la voce in difesa della verità. Dobbiamo parlare anche di queste cose. Anche dobbiamo dire al mondo, cominciando dalla Chiesa evangelica, cominciando da tutti quei cristiani che si dichiarano cristiani evangelici, dobbiamo cominciare da loro a dire, badate bene che il peccato di sodomia, che le relazioni carnali tra uomo e uomo e donna e donna sono peccato. Non importa se li sposeranno, non importa se saranno iscritti ai registri delle unioni civili, non importa. Il peccato di sodomia è peccato davanti a Dio. È un peccato grave, è abbominevole. Ma non è che noi parliamo contro questo peccato in modo da avere riguardi personali. Noi parliamo nella stessa maniera con cui parliamo anche contro il peccato di adulterio, la fornicazione, l'omicidio, contro i ladri, contro il ladrocinio, contro tanti altri peccati. Nella stessa maniera, attenzione, oggi parleremo in particolare del peccato di sodomia, ma noi parliamo in genere contro tutto il peccato, contro tutti i peccati, anche quello di fornicazione e di adulterio, che sono peccati sempre legati alla carne, sono relazioni carnale con persone dell'altro sesso, che comunque sono peccato. Anche quello è peccato, fornicazione e adulterio. Quindi non abbiamo riguardi personali nei confronti degli omosessuali, cioè non li consideriamo peccatori diversi dagli altri. Sono peccatori come tutti gli altri, e se non si ravvedono e non credono all'Evangelo come i fornicatori, come gli adulteri, come altri peccatori, se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo e non abbandonano le loro pratiche, andranno a finire all'inferno. Questo è il messaggio che noi diamo a loro. Li esortiamo a ravvedersi e ad abbandonare il loro peccato. Volevo cominciare a parlarvi con le Sacre Scritture, siccome oggi faremo ricorso alla legge, alla legge di Mosè, quindi dobbiamo fare dei discorsi preliminari. Dobbiamo andare a leggere prima Giovanni, prima Giovanni al capitolo 3 al versetto 4 leggiamo queste parole. Chi fa il peccato commette una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge. Quindi qui Giovanni, l'Apostolo Giovanni definisce cosa è, almeno per una certa parte, cosa è peccato, perché anche Giacomo definisce un'altra parte del peccato. Giacomo dice che chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Ma noi oggi prendiamo in considerazione in particolare le parole di Giovanni che dice che il peccato è la violazione della legge. Quindi l'Apostolo Giovanni sotto la grazia per riferirsi in riferimento al peccato cosa fa? Cita la legge, fa riferimento alla legge. Quindi noi ci dobbiamo domandare ma allora la legge che cos'è? Perché viene citata ancora sotto la grazia? Ebbene, la legge fa conoscere il peccato. La legge non è stata abolita. Cioè, Gesù quando è venuto sulla terra, quando è iniziato il tempo della grazia, con la venuta di Gesù sulla terra dalle predicazioni di Giovanni Battista in poi, quando è venuto il tempo della grazia e quando è venuto Gesù, la legge non è stata abolita. C'è stata una riforma nella legge ma non è stata abolita. E qui, infatti, gli apostoli ne fanno uso anche della legge. Qui Giovanni definisce che cosa è il peccato servendosi appunto della legge. Quindi il peccato è la violazione della legge. Cioè, il Dio ha dato un comandamento. Chi non si attiene a quel comandamento commette il peccato. Trasgredisce i comandamenti di Dio. Questa trasgressione, questa mancata osservanza dei comandi di Dio, della legge che Dio ha dato, ecco che commette peccato. Attenzione, però, bisogna sempre fare il riferimento alla somma della parola perché bisogna sempre considerare che Gesù è venuto a compiere la legge. non ad abolirla ma a compierla. Allora, mentre alcune cose sono state riformate come ad esempio il mangiare i cibi impuri, la carne di maiale, la legge prevedeva che non si poteva mangiare. Ma Gesù ha fatto tutti i cibi puri. Quindi quella parte della legge che Gesù ha tolto, quella parte della legge che, diciamo, aveva una rappresentazione figurativa che conteneva quel comando un'ombra delle cose che dovevano avvenire, ecco quindi che oggi non lo dobbiamo più osservare. Quindi, la legge la legge dobbiamo considerare anche i comandamenti della legge, però lo dobbiamo fare nella maniera giusta. Infatti, anche l'Apostolo Paolo parla della legge. In Prima Timoteo, al capitolo 1, dal versetto 8, l'Apostolo Paolo cita alcune cose che riguardano la legge. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati, gli irreligiosi, per i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti. Questo ci interessa in modo particolare perché oggi citiamo questo tipo di peccato, oggi parliamo in particolare di questo peccato. Quindi la legge è stata fatta per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri, per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del Beato Iddio che mi è stato affidato. Quindi anche l'Apostolo Paolo vedete, fa ricorso alla legge e dice a Timoteo e quindi lo dice anche a tutti noi che la legge è buona, attenzione, la legge non è stata abolita, non tutta la legge almeno, come abbiamo detto prima, ci sono delle cose che sono cambiate, noi non dobbiamo più offrire dei sacrifici di animali, non dobbiamo più osservare il rituale che veniva osservato, perché in questo c'è stata una riforma, quel rituale, alcune cose della legge erano ombra di cose che dovevano venire, con la venuta di Gesù si sono adempiute, si sono compiute quelle cose, e quindi noi adesso abbiamo la realtà delle cose, quindi non ci atteniamo più alle ombre, alle ombre che rappresentavano la realtà, quindi quel rituale adesso noi lo vediamo in Cristo, in quello che Cristo ha compiuto, anche altre cose le vediamo, ad esempio i gentili che erano rigettati da Dio, erano considerati impuri, erano rappresentati dai cibi, capite? Quindi c'erano cibi puri e impuri, e questo rappresentava la differenza che Dio faceva tra i gentili e i giudei, i gentili e il popolo di Israele, ma poi cos'è successo? Gesù in Cristo, nella croce in Cristo, i due popoli ne è stato fatto uno solo, quindi i cibi che erano impuri sono diventati puri e Gesù ha purificato appunto questi cibi perché erano un'ombra, aveva un significato spirituale, infatti che uno mangi carne di maiale o non ne mangi, spiritualmente non ti porta nulla, quello che entra nel ventre, quello che entra nella bocca va nel ventre e poi se ne va nella latrina, quindi non è quello che uno mangia a riguardo dell'impurità, riguardo dell'impurità, non stiamo parlando delle cose sacrificate agli idoli, ma adesso ci atteniamo perché le cose sacrificate agli idoli quelle non le dobbiamo mangiare, nel sangue, nelle cose soffocate, queste cose non le dobbiamo mangiare, ma per quanto riguarda i cibi impuri, questi sono stati purificati da Gesù, anche i gentili, adesso si è aperta la porta della salvezza anche ai gentili, perché in Cristo dei due popoli, le genti e il popolo di Israele, ne è stato fatto uno solo, quindi dobbiamo, dico questo perché, perché bisogna sempre esaminare la somma della parola, e qui Paolo esorta appunto a questo, quando Paolo dice che la legge è buona, perché proviene da Dio, ci fa conoscere qual è la volontà di Dio per determinati comportamenti e azioni, e se ne può fare un uso, qui Paolo dice che se uno, la legge è buona, se uno la usa legittimamente, cioè secondo il senso che Dio gli ha voluto dare alla legge, capite? cioè sotto la grazia bisogna dargli un senso corretto alla legge, la legge non ha senso, ad esempio non si può utilizzare la legge per imporre la decima, non si può utilizzare, è un uso sbagliato della legge, non è legittimo fare uso della legge per imporre determinati precetti, l'osservanza del sabato, non mangiare determinati cibi, imporre la decima, questo è un uso sbagliato che purtroppo vediamo anche che le chiese evangeliche portano avanti alcune frange della chiesa evangelica portano avanti questi tipi di discorsi, fanno un uso sbagliato della legge, ma l'uso corretto della legge qual è? è quello di andare a vedere e conoscere quali sono quelle cose che diciamo sono peccato, ad esempio, ad esempio a riguardo della sodomia noi facciamo riferimento appunto alla legge perché? perché la legge fa conoscere cosa pensa il Dio di quel determinato comportamento cioè il Dio cosa ne pensa delle relazioni carnali tra un uomo e una bestia? Cosa ne pensa il Dio delle relazioni carnali tra uomo e uomo o tra donna e donna? Ecco, è la legge che definisce cosa il Dio pensa di questi determinati comportamenti e sotto la grazia vengono infatti sono stati citati i sodomiti sono stati citati diciamo è stata citata la legge è stata citata sono stati citati questi sodomiti a dimostrazione che per il Signore quel comportamento è peccato come anche dice la legge ora andiamo appunto a vedere ora nella legge non è peccato solo la sodomia abbiamo detto che anche la fornicazione l'adulterio sono peccato anche congiungersi carnalmente con una bestia anche quello è un grave peccato è che la legge condanna e quindi noi possiamo utilizzare la legge per citare che quello è una cosa abominevole avverrante infamante che è sconveniente che l'uomo non deve assolutamente fare e possiamo utilizzare la legge quindi la legge la possiamo usare possiamo fare uso della legge ma ne dobbiamo fare un uso legittimo esaminando la somma della parola per vedere se le cose stanno in una determinata maniera come la vogliamo citare noi ora vediamo cosa dice la legge a proposito a proposito quindi dobbiamo andare proprio al libro della legge al levitico andiamo al levitico e vediamo l'ordine che Dio diede e Dio ha dato un preciso ordine vi faccio una premessa anche oggi abbiamo nelle leggi umane nelle leggi umane abbiamo quando vengono fatte delle norme legislative c'è una parte che diciamo stabilisce il comportamento che uno non deve tenere o il comportamento che invece uno deve obbligatoriamente tenere questo si chiama il precetto cioè è il comando di fare una cosa o di non farla poi o nella stessa norma o in altri articoli o nello stesso articolo o in altri articoli viene citata la sanzione cioè se tu fai tieni quel determinato comportamento la punizione è questa ebbene anche nella legge per quanto riguarda determinati comandamenti c'è sia il comando che anche la punizione cioè se tu fai quel determinato tieni quel determinato comportamento sarai punito con una determinata punizione ora il comando il comando lo vediamo al capitolo 18 di Levitico capitolo 18 al versetto 22 e visto che abbiamo citato anche l'altro tipo di peccato lo leggiamo al versetto 23 quindi Levitico 18 22 e 23 non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna è cosa abominevole cioè è una cosa da condannare che tutti devono condannare è una cosa che davanti a Dio è spreggevole è gravemente è considerata una cosa molto grave questo tipo di peccato così come anche il seguente non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa e la donna non si prostituirà ad una bestia è una mostruosità vedete quindi la legge ci fa conoscere che davanti a Dio determinati comportamenti determinati comportamenti sono un peccato peccati talvolta anche molto gravi la gravità del peccato lo notiamo dalla pena che Dio dà come conseguenza di quel tipo di peccato e la sanzione la pena che Dio infligge ordina di infliggere a quelli che commettono questi determinati peccati il peccato di sodomia e la morte e questo lo leggiamo più avanti in Levitico capitolo 20 versetto 13 se quindi la condizione se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna ambe due hanno commesso cosa abominevole cioè qualcosa di veramente da condannare che è terribile una cosa una cosa orribile davanti al Signore hanno commesso cosa abominevole dovranno essere messi a morte il loro sangue ricadrà su loro quindi qui c'è la sanzione abbiamo visto che Dio ha comandato che le persone non abbiano relazioni carnali con con lo stesso con persone dello stesso sesso e ha detto quale sarebbe la punizione la punizione e la morte diciamo che la morte viene inflitta viene viene diciamo imposta dalle sacre scritture dalla legge solo per quei casi più gravi solo per casi gravi e per quanto riguarda la sodomia per quanto riguarda la sodomia è una cosa grave davanti a Dio è una cosa gravissima quindi 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 è stata inflitta il massimo il massimo della pena per quel tipo di peccato ma per capire ora per farvi capire quanto è grave quanto è grave questo tipo di peccato e anche per capire qual è lo stato d'animo come si comportano gli omosessuali la scrittura ci ammaestra anche in questo qui qui dobbiamo andare dobbiamo andare a a leggere in Genesi dobbiamo tornare indietro e andare in Genesi quando il Dio mandò mandò i due angeli a Sodoma per vedere se le cose stavano come gli era arrivato agli orecchi come e anche per liberare Lot per liberare Lot perché il Dio stava per distruggere quella città quella città dove erano malvagi la malvagità dove la malvagità era elevata di tutti i generi ma è ricordata la distruzione di Sodoma e di Gomorra e delle città circonvicine è ricordata per il peccato in modo particolare della Sodomia e noi leggeremo adesso dei versetti che ci fanno capire quanto era profondo nell'animo di queste persone la malvagità il desiderio carnale legato appunto alla Sodomia e quanto erano il loro cuore quanto il loro cuore era malvagio e lo vediamo appunto dai passi che leggiamo in Genesi capitolo 19 dal versetto 1 leggiamo queste parole or or i due angeli giunsero a Sodoma verso sera e Lot stava sedendo alla porta di Sodoma e come li vide si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse signori miei vi prego venite in casa del vostro servo albergatevi questa notte e lavatevi i piedi poi domattina vi leverete per tempo e continuerete il vostro cammino ed essi risposero no passeremo la notte sulla piazza ma egli fe loro tanta premura che vennero da lui ed entrarono in casa sua ed egli fece loro un convito cosse dei pani senza lievito ed essi mangiarono ma prima che si fossero coricati gli uomini della città i sodomiti circondarono la casa giovani e vecchi la popolazione intera venuta da ogni lato chiamarono lot e gli dissero dove sono quegli uomini che sono venuti da te stanotte menaceli fuori affinché noi li conosciamo lot usci verso di loro sull'ingresso sull'ingresso di casa si chiuse dietro la porta e disse dè fratelli miei non fate questo male ecco ho due figliole che non hanno conosciuto uomo dè lasciate che io ve le meni fuori e voi fate di loro quel che vi piacerà soltanto non fate nulla a questi uomini poiché sono venuti all'ombra del mio tetto ma essi gli dissero fatti là e ancora quest'individuo è venuto qua come straniero e la vuol far da giudice ora faremo a te peggio che a quelli e premendo lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta ma quegli uomini stesero la mano trassero lot in casa con loro e chiusero la porta e colpirono dice città la gente che era la porta della casa dal più piccolo al più grande tal che si stancarono a cercare la porta questo passaggio mi ha fatto sempre riflettere sulla malvagità sulla malvagità questi volevano avevano saputo tutta la popolazione di quella città dei sodomiti avevano saputo che quei due angeli che avevano preso forma umana quindi in realtà erano degli angeli ma avevano preso una forma umana quindi loro li avevano visti come uomini si sono riuniti tutti per avere relazioni carnali diciamo anche violente forti e contrarie perché quegli uomini non erano sicuramente d'accordo erano angeli e se fossero stati solo semplicemente degli uomini non so come sarebbe andato a finire ma questo vedete ci fa vedere l'animo tutta la città si mosse si sentivano forti erano tutti insieme volevano fare del male sia a Lot e soprattutto a quelle due persone quindi quello che si nota qui è la profondità della loro malvagità non hanno un freno non avevano freni dal punto di vista sessuale cioè dovevano sfogare per forza i loro istinti i loro istinti la loro concupiscenza carnale quel loro desiderio anche di fare violenza a persone che non li hanno cercati non volevano avere rapporti con loro quelle due persone però loro volevano forzare questo rapporto l'avrebbero fatto anche forzatamente quindi questi Sodomiti non erano della brava gente non è che erano in una condizione che diciamo compivano le loro relazioni carnale tra di loro consenzienti no si allargavano volevano avere relazioni anche con chi non era d'accordo con loro e così è fratelli quelli sono i Sodomiti oggi se noi se noi li chiamiamo Sodomiti è perché facciamo riferimento a quella gente lì a questa gente ricordatevelo bene con chi abbiamo a che fare e questo è stato scritto per nostro ammaestramento come dice l'Apostolo Paolo in un passaggio in una delle sue epistele dice che ciò che è scritto per l'addietro è scritto per nostro insegnamento per nostro ammaestramento fratelli noi non siamo non dobbiamo come credenti essere favorevoli alla loro punizione fisica al carcere alla loro morte non siamo favorevoli che li torturino o gli facciano del male fisico questo no però certamente ci dobbiamo guardare da loro perché sono malvagi sono una razza di gente malvagia e quindi dobbiamo parlare anche contro questo peccato ci dobbiamo opporre con tutte con tutte le nostre forze del loro animo del loro animo ne parla anche l'apostolo paolo ai romani per continuare per fare un esame proprio interiore di questi omosessuali allora leggiamo da romani iniziamo a leggere dal versetto 24 quindi capitolo 1 di romani versetto 24 l'apostolo paolo il contesto è questo scrive queste parole ai romani quindi queste parole che noi leggiamo siccome sono parole scritte a dei credenti che sembra che ci siano state delle persone che hanno abbandonato la via della verità va bene quindi paolo riferisce queste parole sono riferite a persone a credenti che hanno abbandonato la loro condizione che hanno smesso di adorare il Dio si sono messi ad adorare la creatura si sono sviati quanto alla verità il Dio li ha abbandonati e li ha fatti infiammare tra di loro per per farsi del male nel loro corpo li ha abbandonati a loro stessi questo però la situazione la situazione diciamo che riguarda queste persone come omosessuali si può tranquillamente riferire a tutti gli omosessuali non solo agli omosessuali ai sodomiti che prima erano credenti e leggiamo al capitolo 1 di Romani dal versetto 24 per questo il Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori alla impurità perché vituperassero fra loro i loro corpi essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno amè perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini cose turbiche e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento vedete come definisce queste persone l'Apostolo Paolo sono stati abbandonati quindi non hanno più freno al peccato sono persone veramente ora noi non è che se non erano credenti se non sono credenti noi li esortiamo a ravvedersi e ad abbandonare i loro peccati a credere nell'Evangelo per essere salvati se Dio li salva li libera da tutte le loro condizioni interiore malvagia dal loro cuore malvagio che avevano e quindi rientrano nella normalità e diventano figlioli di Dio se il Signore li perdona dei loro peccati però mentre sono in questa condizione di peccato di omosessualità qui l'Apostolo Paolo dice dice che si danno a passioni infami cioè sono passioni in cui non hanno alcun freno nel 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 soddisfare i desideri della loro carne sessualmente parlando non hanno alcun freno capite non si danno non si non si trattengono dalle loro impurità e da dalle concupiscenze carnali di cui sono presi e commettono questi peccati qui l'Apostolo Paolo dice contro natura cioè le relazioni carnali che si hanno tra uomo e uomo e donna e donna sono relazioni contro natura perché la natura vuole che l'uomo si sposi e abbia relazioni con la propria moglie quindi un uomo che sposa una donna e abbia relazioni con la propria moglie questa è la 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 questa è la relazione naturale la relazione invece che avviene tra persone dello stesso sesso sono relazioni innaturali quindi sono relazioni contro natura quindi già il fatto che poi l'uomo non è stato costruito per determinati rapporti capite quindi le donne non sono state costruite per avere tra loro due a due tra donne determinati rapporti cioè sono cose contro natura sono peccati contro natura e sono condannati da ti qui dice ancora si sono infiammati c'è una fiamma che arde dentro queste persone una fiamma che non si può spegnere capite si sono infiammati nella loro libidine cioè hanno quel desiderio quell'attrazione quei desideri che non hanno freno verso le persone dello stesso sesso hanno un comportamento offensivo verso ogni pudore cioè sono persone volgare ma voi li avete visti quando vanno in giro con il gay pride quella non è una manifestazione non è una semplice manifestazione per determinati diritti è uno scempio è uno scandalo cioè solo a vedere qualche immagine uno si rende conto di quanta immondizia c'è immaginiamoci immaginiamoci quello che fanno è proprio uno scandalo sono cose che non hanno alcun freno sono persone che si danno la volgarità più spreggevole e questo è il loro stato d'animo qui sto cercando non solo di concentrare l'attenzione sul semplice rapporto contro natura ma lo stato d'animo sto cercando anche stiamo esaminando le scritture per vedere qual è lo stato d'animo qual è la pulsione interiore che li spinge che cosa li muove a questo tipo a queste persone che sono diciamo sodomiti e sono tutte cose molto negative come abbiamo visto anche l'esempio in Genesi sono sono veramente delle persone da tenere lontane compiono tra di loro cose turpi cioè compiono cose di cui sono degni di ricevere una punizione sono proprio persone che sono traviate cioè c'è proprio persone che non hanno più nessun rispetto per le cose rette per la rettitudine e la giustizia capite quindi sono proprio persone completamente traviate cioè non c'è più niente di buono in loro non c'è interiormente niente di buono magari si nascondono si presentano come persone normali ma dentro di loro sono pieni di questa immondizia sono pieni di immondizia e quindi bisogna starsene lontane bisogna comunque che i credenti facciano sapere queste cose facciano sapere al mondo intero cominciando dalla chiesa che facciano sapere quanto è grave questo peccato e quanto sono malvagi gli omosessuali bisogna che noi lo facciamo conoscere perché se non lo facciamo noi siamo noi la luce del mondo siamo noi il sale della terra se non lo facciamo conoscere noi cosa è giusto e cosa non è giusto cosa è bene e cosa è male attraverso le scritture naturalmente se non lo facciamo noi che crediamo in Dio e abbiamo fiducia nella sua parola e crediamo che sia la parola che proviene dalla bocca di Dio noi dobbiamo dobbiamo abbiamo il dovere di farla conoscere ai fratelli prima di tutto che magari ignorano queste cose e anche a tutto il mondo la dobbiamo far conoscere anche a tutto il mondo fargli sapere al mondo che noi siamo cristiani e ci atteniamo alla legge di Cristo ci atteniamo alla legge del Dio vivente vero è scritto che queste relazioni carnali non sono lecite all'uomo e alla donna e quindi lo dobbiamo dire non ce lo dobbiamo tenere per noi non dobbiamo giustificare questo tipo di peccato in nessuna maniera andando avanti con con i discorsi che l'apostolo Paolo ha fatto ci ha fatto anche conoscere in prima Corinzi con la epistola con la prima epistola che ha scritto ai Corinzi ci ha fatto conoscere che i sodomiti insieme ai fornicatori gli adulti gli altri peccatori non è che adesso solo i sodomiti non entreranno nel regno dei cieli ma tutti i peccatori quelli che vivono nel peccato quelli che non vogliono abbandonare il peccato questi non entreranno nel regno dei cieli non importa se un giorno hanno creduto oppure no se si danno a commettere determinati peccati questi non entreranno nel regno dei cieli e lo dice Paolo al capitolo 6 dal versetto 9 l'apostolo Paolo scrive queste parole non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio non vi illudete né i fornicatori né gli idolatri né gli adulteri né gli effemminati né i sodomiti né i ladri né gli avari né gli ubriachi né gli oltraggiatori né i rapaci erederanno il regno di Dio fratelli non esiste il cristiano omosessuale come non esiste il cristiano stregone non esiste non esistono questi tipi di cristiani non esistono perché o sei cristiano e segui Cristo secondo la legge di Cristo o sei uno di questi peccatori e segui la tua carne e segui il peccato segui un altro padrone ma non stai seguendo Cristo se uno è fornicatore adultero sodomita non sta seguendo Cristo per seguire Cristo e dire di essere di Cristo deve abbandonare questo peccato non è che noi credenti siamo perfetti falliamo anche noi in tante cose ma una cosa è fallire in determinate una parola sbagliata o un pensiero ma una cosa diversa è quella di vivere nella fornicazione oppure di condurre una vita nella fornicazione o di condurre una vita nell'adulterio oppure essere sodomiti che non non è non va bene un cristiano sodomita non esiste non esiste e questi che si trovano si trovano in questo stato in questi a compiere questi peccati non erediteranno il regno dei cieli hai voglia te che dicano ah ma quella chiesa ci accettano cioè delle chiese evangeliche possono anche accettarli nei loro membri benedire le coppie omosessuali possono fare tutto quello che vogliono anche se sono chiese evangeliche però protestanti chiamatele come volete ma quello che conta è quello che dice la scrittura e questi sodomiti come ne non entreranno nel regno dei cieli non entrano quindi è inutile che vengano benedetti gli omosessuali perché è scritto è scritto che non entrano nel regno dei cieli quindi il loro posto è fuori dal regno dei cieli non dentro volevo concludere questo discorso perché anche Pietro anche Pietro ha citato i sodomiti il peccato di sodomia in una delle sue epistoli nella sua seconda epistola ha citato queste parole al capitolo seconda Pietro capitolo 2 dal versetto 4 dice queste parole perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio e se non risparmiò il mondo antico ma salvò Noè predicatore di giustizia con sette altri quando fece venire il diluvio sul monte degli Empi e se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente e se salvò il giusto Lot che era contristato dalla sciva condotta degli scellerati perché quel giusto che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere vedete che anche Pietro conferma che quello che è stato scritto e che avvenne in Sodoma e in Gomorra è stato scritto per nostro ammaestramento e quello che avvenne a quel giudizio che scese da parte di Dio contro Sodoma così scenderà anche anche verso verso gli empi e peccatori di oggi anche verso contro i Sodomiti che ci sono oggi però immaginatevi immaginatevi città nazioni intere che sono diciamo invase da questi Sodomiti come Dio distrusse Sodoma così può far scendere ancora oggi dei giudizi che sono terribili e tremendi e non è secondo me non è neanche a caso che stiamo assistendo a continui terremoti come segnali perché molti terremoti che stanno venendo non sono forti ma sono solo un richiamo agli uomini affinché si ravvedano e non diano spazio non diano sfogo a tutti i loro peccati quindi per frenarli per frenare il peccato dell'uomo il Dio manda dei segnali tra cui terremoti guerre siccità pestilenze carestie alluvioni alluvioni maremoti e altri tipi di guai li manda il Signore sopra le persone sopra le nazioni le città che sono malvagie per punire o anche per frenare il loro peccato e qui l'Apostolo Pietro a riguardo dei sodomiti ha ricordato appunto a quello che era successo alla città di Sodoma e quindi come Pietro lo ha citato ha citato la distruzione di Sodoma così perché perché le ha citate perché servissero dice l'Apostolo Pietro perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente cioè come come se oggi ci sono città che vivono come vivono come hanno vissuto i sodomiti può avvenire il Dio deciderà cosa fare può avvenire che siano completamente distrutte le città e quindi noi siamo chiamati siamo chiamati ad annunziare ad annunziare al mondo che questo tipo di peccato è un peccato da cui da cui da cui si devono liberare dobbiamo insegnare prima ai credenti a quelli che si definiscono cristiani a parlare come parla la scrittura e poi dobbiamo dire a quelli del mondo cosa gli succede cosa ne pensa il Dio degli omosessuali e cosa gli accadrà se non si pentano e non si ravvedono dei loro peccati perché possono essere puniti anche con la morte e dopo la morte scaraventati all'inferno quindi li dobbiamo esortare a ravvedersi dobbiamo esortare a ravvedersi ad pentirsi dei loro peccati ad abbandonare il loro peccato peccato di sodomia e di credere nell'Evangelo per ottenere la salvezza delle loro anime per il bene dell'anima loro quindi fratelli vedete se la prendiamo dal punto di vista dell'amore che alcuni ci accusano dicono ma bisogna parlare con amore va bene ma noi parliamo con amore quando mettiamo davanti al sodomita o a qualunque altro peccatore senza alcuna distinzione se noi gli mettiamo davanti la fine che farà se non si ravvede se non abbandona il suo peccato qui c'è amore l'amore dove manca l'amore dove non è non è dove lusingano quella persona e non non lo frenano dall'andare a precipitarsi all'inferno e non lo stornano dal peccato che sta commettendo quello non è amore cioè lusingarlo lisciarlo lisciarlo accarezzarlo qui sulla terra per poi vederlo finire sicuramente all'inferno ma che è amore questo? questo è vero amore? non mi sembra a me quindi chi ha? chi manifesta vero amore verso il peccatore? sono coloro che confermezza e autorità dichiarando loro quello che dice la scrittura li esortano a ravvedersi ad abbandonare il peccato e a credere nell'Evangelo per ottenere la salvezza della loro anima per essere salvati per vivere una vita in pace e riconciliati con Dio questo è amore quando si predica il vero messaggio della parola della verità è manifestazione di amore non si nasconde niente al peccatore gli si dice qual è la sua condizione e cosa deve fare per 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 essere per diciamo scampare dall'ira di Dio che è su di lui perché l'ira di Dio è sopra tutti coloro che fanno il male guardate bene non importa se siano credenti o non credenti quando uno si dedica a fare il male a comportarsi in modo sbagliato empiamente come 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 Dio condanna l'ira di Dio è su di lui quindi se non si ravvede e Dio dà un tempo per ravvedersi ma se non si ravvedono saranno distrutti e poi scaraventati all'inferno la loro anima sarà alla fine scaraventata all'inferno e noi appunto perché vogliamo evitare amando il peccatore noi non è che lo condanniamo noi il peccatore sodomita fornicatore adultero quello che sia peccatore eterosessuale o peccatore omosessuale che sia non è che lo condanniamo noi cioè non è che non lo uccidiamo fisicamente noi non gli diamo dei colpi perché non dobbiamo farlo noi non gli facciamo nulla se non esortarlo a voce a parola a ravvedersi chi lo condanna e chi lo punirà severamente nel corpo e poi anche nell'anima uccidendo la sua anima gettandola all'inferno è Dio e noi dicendo la verità a questi peccatori non facciamo altro che cercare di strapparli dal fuoco nel quale si stanno precipitando quindi siamo noi e chi dice la verità chi predica secondo verità l'Evangelo esorta i peccatori a ravvedersi a pentirsi ad abbandonare il peccato questo è amore quindi la calunnia che ci viene lanciata a noi quando noi annunziamo francamente quello che è scritto nella parola per il bene del peccatore ci accusano di non parlare con amore è una calunnia è una falsa accusa non è vera la mancanza di amore ce l'hanno quelli che illudono le persone che li ingannano perché c'è un inganno quando gli dicono agli omosessuali che va tutto bene così basta che si amano sono a posto si hanno rapporti tra due che si sono sposati e che si amano due uomini si amano si sposano e quelli hanno rapporti e quelli sono a posto davanti a Dio questa è una menzogna perché Dio punisce le relazioni carnali il sodomita verrà punito da Dio e gettato all'inferno la sua anima non ci sono variazioni di condizioni cioè non ci sono condizioni specifiche per il quale due omosessuali sono tollerati da Dio sono sopportati no è peccato tutto è peccato di qualsiasi qualsiasi sentimento provino l'uno verso l'altro questi sono sodomiti sottoposti all'ira di Dio e prima o poi saranno puniti dal Signore prima su questa terra e poi la loro anima quando hanno finito la loro vita su questa terra sarà gettata all'inferno dove saranno tormentati giorno e notte dopo dall'inferno la loro anima passerà nello stagno di fuoco di zolfo e lì in quel luogo non ci sarà neanche nell'inferno possono uscire ma neanche poi nello stagno di fuoco di zolfo saranno tormentati per l'eternità quindi questa è la situazione la situazione che che riguarda gli omosessuali la loro situazione davanti a Dio degli omosessuali dei sodomiti di coloro che hanno relazioni carnali con persone dello stesso sesso questa è la situazione sono sotto l'ira di Dio sono persone empie che non hanno non pongono alcun freno al loro peccato non hanno nessuna vergogna non hanno nessun pudore non hanno sono persone proprio lascive completamente dedicate completamente schiave dei desideri della loro carne sono dati completamente a questo tipo di peccato della carne quindi non hanno freni non riescono a frenarsi in alcuna maniera e questa è la loro situazione e questo ho voluto con questo esortarvi fratelli a prendere conoscenza di questo aspetto per chi ancora non l'avesse fatto e affinché crescendo nella conoscenza anche di questi argomenti si possa quando necessario quando si renda necessario sia possibile diciamo annunziare la verità perché purtroppo purtroppo stanno avanzando stanno avanzando sia in mezzo alla chiesa quelli che difendono i sodomiti e il mondo che sta avanzando sempre più e fa pressione verso tutti i cristiani per essere accettati per essere liberi di fare quello che vogliono di essere liberi di non essere giudicati né dai credenti né tantomeno dalla parola di Dio non sopportano non sopportano essere giudicati in questa maniera come dice la scrittura attenzione non siamo noi che li giudichiamo peccatori non siamo assolutamente noi è la parola che li giudica peccatori e questa è una cosa ben diversa il giudizio non viene da noi c'è la nostra bocca che parla ma gli elementi per esprimere le prove gli elementi per esprimere il giudizio vengono dalla parola di Dio quindi quindi in realtà il giudizio non è nostro non ci appartiene non siamo noi che giudichiamo ma è il Dio quindi dobbiamo esporre quello che la parola dice e insegna che insegna anche su questo soggetto anche su questi tipi di peccatori e con questo ho terminato oggi e a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén grazie a tutti